Buongiorno a tutti, io sono Lorenzo Ferroni, responsabile di Tivucat e è per me un grande onore oggi avere in Università Cattolica Domenico responsabile del CUN, campionato universitario. Quest'anno il CUN e Tivucat avveranno una collaborazione per la distribuzione dei contenuti di questo campionato, di Highlights e tutto il vario materiale, è vero? Sarà un grande show. Una grande show, una grande novità per noi è un onore al sesto anno poter riproporre nuovamente questa competizione, siamo in tutta l'università come tutti gli anni con le nostre hostess, il nostro volantinaggio e è per noi un onore avere ufficialmente per il primo anno un'associazione riconosciuta dall'Università Cattolica che possa collaborare con noi, quindi troverete una partita della Lega Calcio Cattolica in esclusiva sui canali Tivucat e diciamo la diffusione del nostro materiale anche sul loro portale. Che dire insomma Lorenzo? Ragazzi mettere mi piace alle pagine di Tivucat e del CUN campionato universitario ma soprattutto in bocca al lupo a tutti i ragazzi iscritti per un torneo incredibile. Grazie mille. In bocca al lupo ragazzi. Grazie. Sono qui con Alessandro Sgoba, responsabile marketing di Radio Bocconi. Ciao Domenico, siamo qui per spiegarvi, per raccontarvi un po' della nostra collaborazione che ci sarà quest'anno, il sesto anno del campionato universitario con il quale la Radio Bocconi collaborerà. Collaborerà in che modo? Faremo un programma settimanale nel quale racconteremo gli avvenimenti, gli eventi più importanti della settimana all'interno del torneo ovviamente, quindi commenteremo le partite, sempre ovviamente un po' in chiave eronica e tenteremo un po' di intrattenervi nell'arco del weekend insomma. Assolutamente sì, i contenuti che già ambiamente conoscete, quindi i contenuti video che saranno disponibili sui canali e le pagine Facebook, oltre al canale YouTube, verranno poi in qualche modo rivisitati su quella che è Radio Bocconi e proveremo appunto a intrattenervi durante la settimana con un appuntamento fisso. Semplicemente potete seguirci, siamo una web radio, potete trovarci sulla nostra pagina Facebook appunto Radio Bocconi oppure anche sul nostro sito ufficiale che è www.radiobocconi.it Quindi mi raccomando ragazzi, seguiteci numerosi e buon campionato a tutti. Grazie.